Scenari da cartolina quelli regalati dalla nevicata che tra la giornata di ieri e questa notte ha imbiancato le vette piacentine. L'immagine scattata dalla webcam di Adida e progetto 8.net mostra il rifugio di Prato Grande in alta Valnure nel comune di Ferriere. La neve è caduta a quota 1.400 metri e oltre i 1.500 sono iniziati anche gli accumuli. Neve in alta montagna e pioggia sul resto del territorio. Le precipitazioni erano attese da tempo dal mondo dell'agricoltura per dissetare la terra, provata da mesi di siccità e da tutti i cittadini desiderosi di respirare un'aria migliore. Grazie alle precipitazioni, circa 25 mm di pioggia caduta in pianura, le polveri fini sono scese a livelli minimi. 9 microgrammi per metro cubo sono stati registrati ieri sia dalla centralina di Via Giordani che da quella di Montecucco in città. La pioggia ha momentaneamente pulito l'aria dallo smog, ma la situazione degli sforamenti resta critica. Dall'inizio dell'anno sono stati 61 quelli registrati in Via Giordani e 46 a Montecucco. Il limite è dei 35 giornate fuori legge. Le precipitazioni si esaureranno nella mattinata di domani e tornerà il sereno. In base alle prime indicazioni, fa sapere Vittorio Marzio di meteovalnure.it, dall'inizio della settimana prossima arriveranno le prime gelate. Le temperature minime precipiteranno anche sotto lo zero su tutto il territorio a causa di aria fredda di origine artica che arriverà dall'est Europa.